Buongiorno, un altro caso di patologia addominale e pelvica, una signora giovane di 40 anni che da qualche anno soffre di problemi di colite psicosomatica, si è rivolta al nostro centro per questa problematica, poi abbiamo scoperto che oltre alle problematiche addominali ci sono anche iniziali problematiche a carico del pavimento pelvico. Come ho già detto e ribadisco ogni volta, ormai è noto e dimostrata la stretta sinergia che c'è tra le tre patologie addominale, pavimento pelvico e regione lombosacrale. La signora ha iniziato i trattamenti da qualche mese, 5-6 mesi, ha subito mostrato un miglioramento sia della sintomatologia addominale ma anche, questo va detto subito, dei disturbi che aveva a livello ginecologico. Lei soffriva di problemi di dolore pelvico, dolore importante durante il ciclo mestruale, mestruazioni abbastanza irregolari e da quando ha cominciato il trattamento per la parete addominale ha notato anche, ci riferisce anche i miglioramenti sulla sfera ginecologica e questo coincide perfettamente con quello che fa parte ormai della nostra esperienza di anni. Allora cominciamo il trattamento, alziamo le gambe, mettiamo il tappetino sotto i polpacci, si può mettere sulla mano, si può mettere dappertutto, l'importante è creare un ponte, lavoriamo inizialmente con una frequenza di 4 MHz, ecco, poggiamo il manipolo giusto per valutare l'impedenza che è discreta. Ecco, cominciamo il trattamento chiedendo alla paziente di dirci quando sentirà un po' di calore, perché vuol dire che da quel momento il tessuto comincia a recepire. Ecco, sposta le mani, grazie. La signora ha avuto dei grossi problemi di lavoro, familiari, quindi ha somatizzato molto le sue problematiche ed infatti le sue patologie iniziano proprio in concomitanza di queste vicissitudini e questo è un dato abbastanza comune in tutte le vicissitudini soprattutto nel sesso femminile che risulta più sensibile alle vicissitudini familiari, emozionali, coniugali. Ecco, come abbiamo fatto vedere anche nell'altro video, iniziamo un trattamento lungo la corda colica andando dal colon ascendente verso il colon discendente, ci soffermiamo sulla zona del sigma dove comunque lavoriamo anche sulla zona annessiale, in questo caso sinistra, vescica utero. Non dimentichiamo che sfruttiamo anche l'effetto stimolante muscolare fasciale per la ricreazione, il mantenimento di un buon tonotrofismo a livello delle strutture del pavimento pelvico, seguiamo la corda colica, poi faremo dei cerchi concentrici di diametro sempre minore in modo da lavorare anche sulla parte ileale. ricordiamo che il meccanismo d'azione delle onde elettromagnetiche si esplica a livello sia della mucosa, perché comunque il paziente racconta una migliore digeribilità, ma anche a livello dei plessi mioenterici intramurali che sono quelli che regolano la motricità involontaria dell'iliocolon, che favorisce quindi lo spostamento della colonna alimentare, che poi diventa fecale. Ecco, in questo caso abbiamo una maggiore contrattura, perché come dicevo nel filmato precedente, queste contratture hanno il significato equivalente di punti trigger, perché in effetti, tutte le volte che parliamo di patologia psicosomatica, parliamo di punti trigger e tender point. Quindi soffermarsi su un punto trigger, massaggiare fino alla risoluzione della contrattura, significa aver risolto il problema locale. Ecco, in questo caso non c'è particolare distensione, alcune volte la paziente si presenta con un addome disteso, giusto a scopo esplicativo, passiamo a 8 MHz, quindi aumentiamo lo sfondamento delle onde elettromagnetiche. In questo modo riusciamo a lavorare anche sui tessuti profondi. Sentite pure, sì? Sì. Ecco, anche la signora fa un trattamento mensile, lo schema terapeutico ormai è abbastanza protocollato, i primi 3-4 trattamenti li faccio una volta alla settimana, poi non appena la paziente riferisce un miglioramento sia soggettivo che oggettivo, passo a un trattamento ogni 2 settimane, poi ogni 3 e poi alla fine un trattamento ogni 4 settimane, che poi è il trattamento di mantenimento. Pazienti che riescono a stare anche 5-6 mesi senza nessun trattamento, perché questo è il, diciamo, il margine di recupero che io credo sia ottenibile da un paziente trattato bene. Ovviamente non c'è bisogno di farmaci, ricordo che l'uso di cortisonici può inficiare l'effetto terapeutico del pronexibus, non c'è bisogno di assumere antispastici perché comunque peggiorano il quadro locale. E dalla nostra esperienza, che ormai conta in diversi anni, possiamo dire che su queste patologie il pronexibus funziona, abbiamo degli ottimi risultati. Abbiamo pazienti che ormai fanno solo il trattamento con pronexibus, avendo pure noi altre attrezzature per la terapia del dolore, tecarterapia, laserterapia, alcuni pazienti ormai li abbiamo selezionati solo con trattamento pronexibus. Ecco, adesso ripasso nel punto precedente dove avevo notato una certa contrattura e già la zona risulta più rilassata. Ecco, abbiamo finito il trattamento, ringraziamo la nostra cara amica, che tra l'altro fa la cuoca, quindi teniamocela buona. Niente dottore, io la ringrazio perché in questi sei mesi la mia vita è migliorata, non ho più dolori ed è un altro vivere. Grazie. Grazie. Grazie.